La vittoria di Trump fa tremare la Nato e i suoi alleati. La dichiarata simpatia del neopresidente degli Stati Uniti verso la Russia preoccupa l'alleanza impegnata a fronteggiare le pressioni di Mosca con un programma di difesa nei paesi baltici e in Polonia dove a inizio 2017 verranno posizionati quattro battaglioni di circa mille uomini. Preoccupazioni condivise anche dal presidente della Commissione Europea che giovedì ha chiesto a Trump maggiori chiarimenti. Ci aspettiamo che il presidente eletto ci spieghi le sue posizioni vorremmo sapere che intenzioni ha riguardo l'alleanza militare sappiamo anche quello che pensa riguardo il cambiamento climatico e tutto questo deve essere risolto nei prossimi mesi. spaventano anche le minacce di Trump di ridurre la spesa per la Nato se anche gli altri alleati non contribuiranno di più. Secondo questo esperto di politica estera, la sua è una posizione forte. L'amministrazione Trump e persone come il suo consigliere per la sicurezza nazionale sanno di essere in una posizione negoziale forte nel dibattito interno alla Nato che si terrà durante il prossimo vertice in primavera a Bruxelles. Credo che i negoziati saranno alquanto duri. Dopo l'annuncio della vittoria di Trump, il segretario generale della Nato ha immediatamente ribadito l'importanza del ruolo degli Stati Uniti all'interno dell'alleanza.